L'esplosione di colori di 200.000 tulipani di 70 diverse varietà hanno accolto i tanti visitatori arrivati all'inaugurazione del parco floreale biologico nato a Scandicci dal progetto Wonder & Peek ideato dall'Associazione Le Tribù della Terra con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione del Comune di Scandicci. Un paradiso di colori nato nell'area ex-CNR per unire scienza e cittadinanza destinato ad ampliarsi con il ripristino di specie floreale autoctone dimenticate. In prospettiva ci saranno un aumento delle specie, non solo delle varietà ma proprio delle specie per creare un parco che sia appunto libero, interattivo, naturalmente ludico però anche appunto didattico e forse anche che segua una politica agricola innovativa. Ad aprire i cancelli all'ombra del suggestivo castello dell'Acciaiolo è stato il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, che ha accolto i visitatori che subito si sono riversati tra i filari di tulipani che è possibile raccogliere e osservare da vicino. Questo parco dobbiamo costruirlo insieme ai cittadini, sarà il parco del desiderio, è qualcosa che ci viene in regalo e in dotazione nel centro della città. Dobbiamo avere l'ambizione di fare un parco metropolitano di grande respiro e sia attrattivo non soltanto per gli scandicesi, sia un posto vissuto e sia un posto bello. Il parco in cui è allestita anche una speciale birreria con birre ricavate dalla camomilla e dal miele di acacia si estende su un'area di quasi un ettaro ed è stato realizzato con la collaborazione di architetti paesaggisti. È stato il risultato anche di un duro lavoro, non solo fisico ma anche molto concettuale perché poi il poter riuscire a mettere a dimora così tanti bulbi era una sfida anche per noi con delle tempistiche che anche i tempi burocratici e i tempi agricoli spesso non coincidono. L'iniziativa Wonder & Pick ha visto anche l'avvio di un progetto sperimentale di coltivazione con microorganismi realizzata dal gruppo con il CNR in valsa. Se abbiamo dei risultati si potrebbe ipotizzare un utilizzo di questi microorganismi e quindi di questi stimolatori di crescita nell'agricoltura biologica. E alla fine tutti in coda con i tulipani raccolti in un vero paradiso di campagna nato in piena città.